Questo gioco è magico? No. Lele, a chi piace la magia? A Jehovah o a Satana? Satana. Giusto, la magia è una cosa cattiva. Ecco perché Jehovah la odia. Vuoi veramente giocare con qualcosa che Jehovah odia? Ti ricordi cosa abbiamo imparato all'adorazione in famiglia? Chi sono questi? Adamo e Eva. Bravo! E hanno ubbidito a Jehovah? No, hanno disubbidito a Jehovah. E lui ci è rimasto male. Quindi cosa succede se disubbidisci a Jehovah e giochi con qualcosa che a lui non piace? Secondo te Jehovah è contento o è triste? È triste. Già, vuoi che Jehovah sia triste? No, non voglio che Jehovah sia triste per colpa mia. Neanch'io voglio che Jehovah sia triste per colpa tua. Quindi, che cosa facciamo con questo gioco? Gabriele, sono molto fiera di te. Hai fatto felice la mamma. E sai chi altro è felice? Jehovah! Sì, Jehovah è così contento che gli hai ubbidito Gabriele. Porco Dio!